Roberto Massucci diventerà il nuovo questore di Roma, prenderà il posto di Carmine Belfiore, nominato oggi prefetto dal Consiglio dei Ministri, nella prospettiva ad assumere l'incarico di vice capo vicario della Polizia. Attualmente Massucci è questore di Verona, ha una moglie e tre figlie, è laureato alla Facoltà di Giurisprudenza all'Università di Roma La Sapienza e ha un master di secondo livello in materie di difesa da armi chimiche e biologiche, sempre alla Sapienza, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Ha poi ottenuto l'attestato di gestione della comunicazione interna ed esterna alla Lewis Business School, una lunga e articolata carriera professionale, quella di Roberto Massucci, che lo ha visto negli anni spostarsi in varie città d'Italia. Nel 1991 è entrato alla Scuola Superiore di Polizia e ha assunto l'incarico di vice dirigente alla squadra mobile della Questura di Verona, poi di dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il primo incarico presso la Questura di Roma è stato quello di vice dirigente del commissariato Prima Valle, successivamente diventato dirigente reggente del commissariato San Paolo, per poi essere nominato vice dirigente della sezione Ordine Pubblico dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Roma. Nella lunga carriera di Massucci compare anche il ruolo come dirigente dell'Ufficio per il Giubileo, in occasione del Grande Giubileo del 2000. Insomma, il nuovo Questore conosce bene la Capitale ed è pronto ad iniziare una nuova avventura.